il primo segnale è subito quello valido con Monzonfess che prova a assumere il comando la corsa la rottura di Mrs. Gar e quella di Mimosa al Sole però rimesso la rottura anche di Magic Griff e cavalli che affrontano la prima curva con Monzonfess al comando davanti a Mali Axe l'errore anche di Masaccio Spin e cavalli che sono già sul bocco della dirittura di fronte con Monzonfess al comando Mali Axe al seguito quindi dall'esterno l'avanzata abbastanza vehemente del numero 8 Mandrake OM che in breve va a chiedere strada ma non trova la resistenza di Monzonfess che vuole rendere difficile il compito al cavallo di Gianpaolo Minucci che poi finisce col passare quando i cavalli hanno affrontato la seconda curva quindi nuovo leader Mandrake OM davanti a Monzonfess Mali Axe quindi al seguito c'è anche Martin Velange i cavalli in fila indiana dietro Martin Velange c'è Moiano Spin cavalli che stanno per entrare in addirittura per il passaggio davanti alle tribune con Mandrake OM che guadagna qualcosa sullo slancio e continua a condurre a buona andatura tant'è che il chilometro viene passato in un 1.20 tutto sommato buono per la categoria considerata la partenza da fermo alle si scopre ora Mali Axe che affronta la terza curva con l'attacco alla battistrada che nel frattempo ha affievolito l'azione passa a Mali Axe che ora deve provare a scendere la corda impresa che gli riesce solo in questo momento quindi Mali Axe nuovo leader davanti a Mandrake OM quindi il Monzonfess che si mantiene terzo su Martin Velange 500 metri abbondanti al traguardo con Mali Axe che ora conduce davanti a Mandrake OM dall'esterno e dalle retrovie prova l'avanzata anche gli altri coccoletti in particolare il numero 6 di Moiano Spin cavalli che sono a metà della curva conclusiva con Mali Axe che ha due di margine su Mandrake OM e su Monzonfess che si è scoperto nel frattempo per andare a caccia della battistrada addirittura d'arrivo Mali Axe che ha due di margine su Monzonfess e su Mandrake che riprende Mali Axe che ora deve difendersi Mandrake alla corda, Monzonna all'esterno ma è Mali Axe che viene a vincere questo premio Lima davanti a Monzonfess e lasciando al terzo posto Mandrake OM 2.39.1, 1.18 la media al chilometro per Mali Axe che è passato sulla terza curva andando poi a difendere estrenuamente la posizione da leader fino in retta di arrivo quando dall'interno Mandrake OM e dall'esterno Monzonfess hanno provato a rimontare ma alla fine Romolo Sani ha tenuto bene con il suo allievo ed è venuto a siglare questa sesta corsa da Tordivalle 1.28 l'ordine di arrivo 2.46 la quota del vincitore